Buonato, gentilmente mi ha fissato un appuntamento e ci siamo poi incontrati. Ho ritrovato di fronte una persona all'altezza di quello che si dice, mi ha risciolto anche vari problemi oltre a quello attuale e lo ringrazio tuttora, però oggi come oggi sto veramente bene, la mia azienda ha ricominciato a funzionare, perché sono contenta e rimarrò sempre una sua cara amica come lui sarà per me. Grazie. Ogni persona ha un sentiero, a volte si cambia direzione perché non si comprende se stessi o per una opposizione esterna, si arriva così a un conflitto e di conseguenza si soffre. La guida del maestro Letterius riesce a illuminare il percorso esatto per le tue giuste scelte. Se desideri superare i tuoi problemi, se sei alla ricerca del giusto sentiero, puoi formulare il numero 335-6592-908 per percorrere il cammino della felicità. Tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì se sono aperte passano le emozioni, se sono socchiuse filtrano appena. Con la forza e l'aiuto del mago Letterius per te si potranno spalancare tutte assieme di colpo. Il mago Letterius è studioso, sensitivo, astrologo, specialista di alta magia rituale. Ha lunghi anni di esperienza, di studio e grazie alle sue doti ereditarie e naturali, si dedica alle persone con serietà e professionalità. Se hai dubbi o problemi in amore, affari, famiglia, puoi contattarlo al numero telefonico 335-6592-908. Non rimandare, perché il tuo caso è importante e puoi risolverlo subito. Riceve in qualsiasi parte d'Italia e anche all'estero. Il mago Letterius è l'altra faccia della realtà, specialista di alta magia, ovunque riscuote successo e fama internazionali, perché si dedica al suo lavoro con onestà e passione. La sua infinita potenza ed energia possono essere decisive per la tua vita. Ti indicherà la via più giusta per raggiungere la serenità in amore, affari e ravvicina i tuoi figli alla tua casa. Il mago Letterius prende in considerazione il tuo caso e sa darti il consiglio più appropriato per risolverlo. Puoi contattarlo al numero 335-6592-908. Per casi importanti e delicati interviene anche a domicilio. Se vuoi puoi fissare una punta.